è iniziata questa giornata di sbordone questa domenica sbordoniana tra s3 partenope e all black cioffi ancora arnese può avanzare ancora da cioffi vuole calciare infatti lo fa attraversa poi arnese brandi lanciamorra che va in porta epifania brandi barriera poi col destro pala fuori pania arnese migliardi col sinistro per sbaglio per proteste cioffi va in porta ora piccolo attenzione ottimo tipo di pezzi sbaglio a miglio col sinistro attenzione epifania e finisce così il primo tempo 0 e 0 partita molto inizia il secondo tempo con uno sbaglio a miglio diretto in porta epifania in qualche modo in calcio voglia miglio mora che va in porta sbaglia ora ne può profittare col calciare ancora e c'è il gol di morla 1 a 0 te si chiude un partire brandi calcio in porta scoglia miglio lunga scoglia miglio 2 a 0 lunga epifania smanazzo tezzi brandi gira calcio in porta intanto granata è andato di nuovo a terra scoglia miglio morbida scoglia palla fuori scivola daremo colpe cioffi con la cioffi calcio in porta spieghiamo sette minuti alla prima di questa partita uscita granata non ce la fa continui la palla rimane là se ne approfitta poi va col sinistro epifania in calcio d'arne chiude cioffi morano ancora cioffi coltisce mora la palla ancora lui questa volta si va d'arnese che controlla poi appoggia per miliardi c'è il 2 a 1 e si riapre la partita poco più di 5 minuti brandi in porta barriera ancora scoglia miglio epifania ancora brandi la partita adesso c'è accesa De Luca ancora De Luca cioffi calcio in porta cioffi ancora miliardi volo di piccolo poi ancora miliardi dopo due super interventi di piccolo miliardi trova il guizzo giusto 2 a 2 ancora in porta epifania 2 a 2 ancora ancora caezza pioneo in pallo infani a terra va lunga arnese morano in mezzo la palla d'arnese 3 a 2 la recuperano così arnese che partita ragazzi ma lui diretta in porta calcio d'angolo di una di testa arnese morano vada attenzione ottima risposta poi morano 4 a 2 2 in porta e finisce così gli all black vincono 4 a 2 una rimonta clamorosa dopo che granata si è fatto male non è riuscito a rimanere in campo hanno approfittato il black e siamo qui alla fine di questa partita finita 4 a 2 per your black partiamo rimanere a scogliamiglio che dire siete molto sfortunati in questo questo ultimo periodo dopo il pareggio dell'ultima partita 4 a 4 ci facciamo c'è anche finale dopo che però granata si è fatto male il nostro è rimasto in 7 è il nostro verno quindi venendo a mancare lui viene meno tutta la squadra è brutto ma è così sì poi rimanere in 7 è difficile poi loro sono un'ottima squadra 2 a 0 fino alla fine combattuta poi siamo crollati mentalmente da la partita comunque complimenti a scogliamiglio e un augurio per la prossima siamo da miliardi fatto doppietta forse anche di tripletta se non era se non era per per piccolo che aveva fatto un'ottima parata con i piedi grandissimo quartiere davvero devo fare veramente i miei più grandi complimenti a loro quartiere non ci piedi per meno tutto esagerato il primo tiro veramente un partiere professionista comunque sono molto molto contento di aver dato una mano a questi ragazzi visto che mi hanno chiamato e diciamo ho dovuto rispondere sul campo bella partita iniziata tosta bella battaglia anche col difensore grande partiere ribadisco e mi ha fatto molto piacere vincere i due li hai lanciati quasi in Champions questa vittoria mi hanno detto mi hanno riferito tutto mi fa molto piacere spero di poter ritornare a dare una mano a questi ragazzi ok complimenti a migliardi grazie mille ciao ragazzi grazie grazie grazie